Il primo stante in cui mettiamo piede sulla nave di non dovere mai trasmettere. Ascoltare sì, mi è capitato diverse volte. Trasmetterlo grazie al cielo no. Per me è stata una grande emozione venire a visitare questo museo perché ha una raccolta di pezzi unici. Ed è stato un crescendo di emozioni e ricordi. Io ringrazio tanto Sessa perché ha contribuito a farmi ricordare dei momenti indimenticati. Grazie Sessa.